Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà comunque condizioni meteorologiche buone in gran parte d'Italia, però guardate questi cerchi concentrici sull'Europa occidentale, è una zona di bassa pressione, le macchioline azzurre rappresentano delle piogge e si sta avvicinando all'Italia, ma per quanto riguarda questo sabato in realtà la situazione è ancora abbastanza tranquilla, come vedete poche nuvole sul nostro paese, cominciano a farsi avanti un po' di nuvole alte da ovest sulle regioni di nord ovest, sul medio alto Tireno, ma per il momento è stata di velature, quindi nubi di poco conto, anche come precipitazioni quindi ben poco da segnalare, sta nel complesso una giornata tranquilla, la zona di bassa pressione che si era formata sul Mar Ioni ormai è lontana verso la Grecia, quindi per il resto ripeto ben poco da segnalare e allora andiamo a vedere in definitiva che sabato ci attende con il sole bene o male protagonista, però appunto qualche annuvolamento che transita al nord o soprattutto al nord ovest sull'alto Tireno, magari a ridosso delle Alpi occidentali qualche locale acquazione tra pomeriggio e sera, per il resto sole e temperature per il momento ancora da piena estate. Per sapere poi nel dettaglio cosa capiterà anche nella giornata di domenica scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.